Sono davvero molto orgoglioso che tutti gli ebook di Simonelli Editore abbiano la garanzia di una distribuzione davvero globale. Ho siglato infatti degli accordi con le due grandi realtà distributive statunitensi a livello mondiale per cui attraverso di loro tutti gli ebook di Simonelli Editore sono presenti in centinaia e centinaia di altri ebook store in tutto il mondo ed in tutte le lingue. Gli ebook store che vanno dall'Australia all'America Latina, agli Stati Uniti, al Canada, al Regno Unito, a tutto il resto dell'Europa. Non solo, gli ebook di Simonelli Editori sono presenti nell'ebook store di iTunes per gli utenti di iPhone e iPad. ebook store che attualmente è operativo soltanto per l'Australia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia e Germania e tra breve sarà operativo anche in Italia. Ed infine gli ebook di Simonelli Editore sono presenti anche su Amazon. Ed infine gli ebook di Simonelli Editore sono presenti anche su Amazon.